Che vuoi che sia? Ne parlo con un amico ed evito di andare dallo psicologo. E no, non funziona così, per almeno tre motivi. Primo, l'amico non è uno psicologo, non è formato adeguatamente per fare quel tipo di lavoro, che è molto delicato e ti porta ad un cambiamento reale ed effettivo. Ti può dare al più un blando consiglio, ma... Secondo, l'amico molto spesso è coinvolto nel problema, ti conosce, ha degli elementi, una sua visione parziale della cosa, non ha un punto di vista oggettivo sulla tua situazione di vita. Terzo, noi psicologi aiutiamo a risolvere veramente le questioni, quindi non a mettere una toppetta sul problema, ma ad andare alla radice dei tuoi problemi e capire come tutte le cose sono collegate e riuscire ad innescare il cambiamento vero, reale, positivo, che ti porta a volare libero e felice nella tua vita. Ciao!